Grazie a tutti. Le lettere di Amarna sono delle lettere diplomatiche in accadico, quindi non è tanto il mio settore, però sono praticamente le uniche fonti a disposizione per quanto riguarda la fine della diciottesima dinastia egiziana, che è uno dei periodi più turbolenti, forse meglio documentati, però in una situazione così frammentaria da rendere tutto molto più difficile. Un brevissimo accenno per quanto riguarda il regno di Akhenaten, quindi effettivamente verso la fine della diciottesima dinastia, un rampolo di alta famiglia, una dinastia gloriosa, grandi conquiste in oriente, siamo praticamente all'apice della potenza egiziana, espansione nel vicino oriente, in Nubia, siamo come vedete nel tardo bronzo, intorno al 1350 a.C. che abbiamo visto, introduce a un certo punto una raffinatezza filosofica, potremmo dire, e teologica, gradatamente ma con forza, introduce questa nuova divinità che si pensa debba sostituire il resto del pantheon egiziano, ed elabora un sistema estremamente complesso, noi il Dio lo chiamiamo Aten, cioè il disco, ma in realtà quello che vedete è il vero nome della divinità, quindi c'è un concetto filosofico dietro, ma abbastanza complesso. Adesso si legge, vive Ra Arachti, cioè Ra, il sole dei due orizzonti, cioè dell'alba e del tramonto, nella gioia che gioisce, nell'orizzonte, nel suo nome, che è il venire come Aten. Quindi è una cosa abbastanza complessa, per noi non è facile spiegarlo, però ci dà almeno l'idea di, non è semplicemente il disco solare, e punto, c'è qualcosa dietro di più grosso. È un monoteismo, se possiamo chiamarlo monoteismo, abbastanza intollerante, nel momento in cui interviene contro il resto del pantheon. Non siamo sicuri di quando questa operazione avvenga, ci sono due date proposte, e sono abbastanza importanti anche per tutto il resto del discorso. Allora, potrebbe avvenire abbastanza presto nel regno, quindi intorno all'anno V, o addirittura dieci anni più tardi, cioè verso la fine, intorno all'anno XV, come una reazione. Io, e la maggior parte degli studiosi, in realtà propende per la prima ipotesi. Quello che vedete è il nome di Amenhotep III, cioè il padre di Akenaten. Ogni farone aveva almeno due nomi, diciamo, quelli più usati, erano cinque, però i più utilizzati erano due, nei due cartigli. Qui vedete Nebmatra, signore di giustizia, era, e l'altro nome era Amenhotep, e la parte con il nome del dio Amon è stata scalpellata. Quindi non si faceva problemi a cancellare anche il nome del proprio padre, dove questo si richiede essere necessario. È un accanimento in particolare contro il dio di Tebe, Amon, però si assiste anche a attacchi verso altre divinità, in particolare verso il plurale di dei, da Neceru diventa Necer, quindi un solo dio, per questo si tende a classificarlo, almeno a grandi linee, come monoteismo. E la stela della restaurazione di Tutankhamen, in effetti parla di una sofferenza di tutti i santuari dell'antico Egitto, che erano stati chiusi, di uno stato di abbandono. Quindi probabilmente è una cosa abbastanza ampia. Una nuova capitale per servire al culto del nuovo dio deve abbandonare Tebe, perché è troppo ingombrante, e non può spostarsi a Memphis, perché è già occupata da un altro dio, sceglie un suolo, diciamo, vergine, e dal nulla costruisce una nuova città. È un progetto che viene realizzato tutto sommato in pochissimo tempo, perché già intorno all'anno VI, il sovrano si insedia, costruisce una serie di templi enormi, vedete, questi sono 300 metri, quindi siamo sul chilometro e mezzo, per questo grande recinto. È molto semplice costruire, perché in realtà, essendo un tempio dedicato al sole, non c'è soffitto, non c'è bisogno di costruire i pilastri, sono delle grandi corti aperte, con tanti altari per le offerte, però comunque è una grande impresa. Poi abbiamo la grande strada reale, che taglia a metà il palazzo, qui abbiamo la parte privata, con quelli che vengono chiamati giardini, e una cosa abbastanza innovativa per l'epoca, un ponte pedonale, che permette al sovrano di attraversare la strada senza scendere, e entrare nell'ala del palazzo, che è dedicata alle cerimonie pubbliche. In questa zona abbiamo la famosa finestra delle apparizioni, dove il sovrano premia i funzionari fedeli, poi abbiamo l'archivio, qui c'è un altro tempio piccolo, insomma, come vedete è un progetto abbastanza ambizioso. Vi accompagna una nuova concezione della regalità, dove non solo il dio solare al centro con i suoi raggi, che è un'iconografia abbastanza innovativa, ma anche il sovrano e la moglie e la famiglia in generale diventano parte di una triade, per cui, sì, il dio solare, però anche il faraone, che riprende concezioni, diciamo, di antico regno, un po' reazionarie, al di là di conservatrice. Il faraone come unica garanzia dell'ordine cosmico e della giustizia, del potere, dell'aldilà addirittura. Ed è molto importante anche notare la rilevanza della regina, che è quasi sullo stesso piano del sovrano. E questa è una cosa che poi tornerà utile per il discorso successivo. Si accompagna una serie di grandi innovazioni anche nell'arte, una grande vivacità dal punto di vista naturale, una grande attenzione, perché il disco solare come divinità è una cosa abbastanza intuitiva. Tutti gli animali, quando c'è il sole, saltellano, i fiori si aprono, eccetera, eccetera. In questo concetto abbiamo ancora un grande interesse verso le relazioni familiari e, come dire, viene meno un pudore che prima c'era, che circondava la famiglia reale, qui abbiamo il faraone che bacia una delle sue figlie. È una scena molto tenera, molto strana nell'arte egiziana, diciamo, forse è un caso unico. Però ha anche dei risvolti brutali, ha un livello di sperimentazione abbastanza estremo. Questo forse è uno dei risultati più sconvolgenti. In realtà abbiamo anche risultati sublimi, il famoso busto di Nefertiti a Berlino, e anche questa graziosa stele che è alcaio, dove le forme sono un po' più gentili. Anche qui, studiando l'arte amarniana, si vedono chiaramente tre periodi, quindi una riflessione filosofica alle spalle. Detto questo, andiamo a vedere quali sono le fonti che interessano in particolare la parte finale di questa esperienza. Abbiamo rilievi scolpiti ad Amarna, che è il nome della città di cui abbiamo parlato prima, anche Ashmunain, Menfi e Sakkara in particolare, sigilli di Jara, che indicano gli anni di regno e il nome del sovrano, quindi sono molto importanti, e anche anelli sigillo in Fayanz con i nomi del sovrano, spesso in coppia, quindi vanno interpretati come relazioni familiari, marito-moglio, oppure correggenza fra un sovrano anziano e un sovrano più giovane. Abbiamo il corredo funerario di almeno due tombe, la KV-62 è la tomba di Tutankhamon, la KV-55 è una tomba disturbatissima, composta di materiali compositi, raffazzonati, con nomi cancellati, quindi oggetto di una rivisitazione successiva che ha sconvolto il contesto archeologico, che è difficilissima da interpretare, è uno dei nodi dell'età amarniana. E anche la tomba reale di Amarna in realtà sembra essere stata occupata, ci sono delle decorazioni, c'è anche qualche pezzo di corredo, e la decorazione pittorica di KV-62, che è l'immagine del poster di questa conferenza, che vedremo alla fine come la cosa su cui tutto converge. Abbiamo poi i fonti esterni, le lettere di Amarna, cioè la corrispondenza diplomatica dei sovrani egiziani da Menotep III, compreso Akhenaten e Tutankhamen, nell'arco quindi di circa 25-30 anni, scritta in accadico, che era la lingua ufficiale della corrispondenza, c'è qualcosa in aramaico, in un'altra lingua, però comunque sempre cuneiforme, e abbiamo le geste di Shuppi Luliuma, che sono scritte in carattere cuneiforme, ma in lingua ittita, e che sono state trovate nella capitale ittita. Shuppi Luliuma era il re che regnava nel paese degli ittiti, contemporaneamente ad Akhenaten e agli immediati successori. sono state scritte dal figlio e successore Murcili II, racconta le geste di mio padre, mio padre ha fatto questo, ha fatto quest'altro. Vediamo di capire un po', spero sia abbastanza chiara, l'Egitto e il vicino oriente in questo periodo, abbiamo ovviamente l'Egitto, un impero coloniale che si estende in buona parte della Nubia, fino a Napata, abbiamo ovviamente il Sinai con le miniere di rame turchese, e tutta la fascia vicino orientale, praticamente fino alla Siria settentrionale, Kadesh, qui, c'è, sì, esatto, è nella orbita egiziana. Sopra, appena sopra, abbiamo questo stato cuscinetto, si chiama Amurru, che è un alleato dell'Egitto, e nella Mesopotamia settentrionale abbiamo questo regno di Mitanni, che è un grande alleato dell'Egitto, che è all'età di Amenhotep III, cioè il padre di Akhenaten, vi è stato un intenso scambio diplomatico, anche uno scambio di principesse e Mitanni, che vanno in Egitto come spose del Faraone. Poi abbiamo una nascente Babilonia sotto, ancora un impero abbastanza piccolo, e Elam, vabbè, che è una cosa, un po' ai margini, e ovviamente nell'Anatolia centrale abbiamo gli Ittiti. Vediamo il nostro antagonista, tra virgolette, Shuppiluliuma, conquista il trono secondo una nuova cronologia, nuova relativamente, una più recente cronologia, poco dopo l'ascesa al trono di Akhenaten, anche se ammettiamo che fra Amenhotep III e Akhenaten non vi è stata una correggenza, e questo è uno degli grandi nodi, che non discuteremo qui, perché è pericolosissimo, diciamo che in questa conferenza io sostengo che non vi è stata correggenza, come ormai credo la maggior parte degli studiosi, abbastanza ragionevoli. È il fautore di una politica estera molto ambiziosa, molto spregiudicata e molto attiva, mentre l'Egitto si caratterizza contemporaneamente per un lassismo, per un preferire lasciare le cose come stanno, ovviamente con tutto quello che abbiamo visto di produzione artistica, architettonica, filosofica, il farone forse non aveva tempo di dedicarsi alla politica estera. La prima fase di questa espansione è l'attacco e la conquista del regno di Mitanni, lasciando una piccola parte indipendente e dei suoi vassalli. Questo ovviamente viene contro l'Egitto, perché Mitanni è uno degli alleati più importanti. Tuttavia l'Egitto non interviene. Vi è successivamente la posizione dei vassalli. Innanzitutto Kadesh, che fa una mossa politica molto stupida, attacca gli Ittiti pensando da sola di poter sconfiggerlo. Viene ovviamente sconfitta a sua volta, la città è catturata e il sovrano viene sostituito con un vassallo Ittita. A questo punto Kadesh, nella fase di sfera influenza egiziana, passa alla fase Ittita. Il regno di Amuru, che abbiamo visto a nord, nella Siria settentrionale, è in questo periodo retto da un certo re Abdi Ashirta, che è un alleato egiziano, ma che a sua volta cerca di avere una politica indipendente, aggressiva nei confronti degli altri vassalli egiziani. Abbiamo tantissime lettere, ma anche abbastanza noiose, in cui prega il faraone, in un tono molto sottomesso, di voler fare qualsiasi cosa egli fa, la fa per interesse del faraone, che è il suo unico signore, non si deve preoccupare di nulla, ma anzi, tutto viene fatto in accordo con il residente egiziano, insomma il grande commissario egiziano. Nel frattempo c'è anche Biblo, che è nella sfera egiziana, e il re di Biblo, Ribaddi, scrive a sua volta al faraone tantissime lettere in cui dice attento perché questo Abdi Ashirta è aggressivo, tutti i tuoi vassalli stanno cadendo, cerca di fare qualcosa, noi abbiamo paura, noi siamo i tuoi servi. Quindi è una continua e insistente richiesta di aiuto militare all'Egitto. La politica egiziana, però, è abbastanza deludente. Abdi Ashirta rassicura il faraone, dice che appunto sta facendo quello che sta facendo, addirittura in collaborazione con un certo Pahunate, che è la trascrizione accadica di Pahem Necher, cioè il servo del Dio, potrebbe essere un titolo, però forse è un nome proprio, che sarebbe il residente egiziano, il grande ambasciatore, il plenipotenziario. La corte egiziana sembra non essere interessata a un intervento militare, cerca di evitare il tutto, fin tanto che questi vassalletti litigano fra di loro, purché rimangano nella sfera egiziana, alla corte egiziana va bene, il governo non vuole intervenire. Quando muore Abdi Ashirta, il figlio, a Ziru, assume una politica anche più aggressiva, addirittura si spinge a prendere Biblo, che aveva chiesto aiuto in effetti alla corte faraonica, e con un grande cambio si allea con Kadesh, che nel frattempo, abbiamo detto, era caduta ed era passata alla sfera ittita. Quindi, a Ziru viene convocato alla corte faraonica per rendere conto di questo suo atteggiamento e viene tenuto nella corte per un anno. A questo punto, verso la fine del regno di Achenaten, abbiamo un'attrazione magnetica degli ittiti verso tutti gli stati, che ovviamente si sentono abbandonati, vedono la grande potenza ittita come una garanzia maggiore, e una fase è definita di guerra fredda. I due imperi si guardano, però nessuno vuole fare il grande passo. Il grande passo lo fanno i piccoli. Il tradimento di Azziru, mentre Azziru è in Egitto, gli ittiti attaccano una piccola parte nella valle della Bekalta, Amca, nelle fonti, e le truppe ittite vengono ammassate in quella che era l'ex capitale del regno di Mitanni, Washukanni. quindi c'è un atteggiamento ostile degli ittiti, però senza arrivare allo scontro diretto. Allora Azziru, che è ancora in Egitto, chiede di poter tornare a casa e fronteggiare eventualmente quello che succede. Cosa fa? Appena arriva in Amurru, fa un patto con gli ittiti. Questo è, diciamo, il punto più basso della politica estera egiziana, in cui praticamente sembra che quasi tutto sia perduto. Torniamo alla corte faraonica. A Marna, anno dodicesimo, abbiamo, non si vede tanto bene, però, questa grande celebrazione che è rappresentata in due tombe della necropoli, dove il faraone è rappresentato al centro con la consorte e le sei figlie, le principesse, con questa enorme celebrazione di popoli stranieri che vengono a presentare il tributo. vedete proprio un vortice di persone che si prostrano, portano offerte, oro, militari che tengono tutto sotto controllo. È una cosa molto viva. Noi sappiamo che nella letteratura inglese viene chiamata Durvar, l'idea del re inglese imperatore d'India che si presenta in questo grande baldacchino che riceve l'omaggio dei Maharaja. Si chiama Tributo delle Nazioni, diciamo, ma per quale motivo avviene questa cerimonia? Chi sostiene che in effetti Akenaten abbia regnato per quasi 12 anni con il padre in correggenza dice, beh, in questo punto Amenhotep III muore e Akenaten inaugura il suo regno da solo. Però, siccome noi non crediamo a questa cosa, dobbiamo trovare un altro motivo. È un evento non raro, nel senso che le fonti egiziane ne parlano spesso, però non è mai apparso su una tomba dell'età preamarniana e comparirà poi dopo con Tutankamon, ad esempio, qualcosa di simile. Forse, è una spiegazione forse non tanto convincente, però, diciamo che accontentiamoci, è semplicemente come dire, la città è stata costruita, il nuovo ordine di cose è attivo, e il faraone vuole inaugurare in maniera ufficiale il nuovo regime di Aken, la nuova divinità, un nuovo corso di cose. Non so, non è molto convincente, però alla fine facciamoci una ragione, non sappiamo perché. Si introduce un tema interessante, è quello della peste. Abbiamo visto questa cerimonia delle nazioni, un assembramento di moltissima gente in Egitto, praticamente tutto il mondo allora conosciuto che aveva rapporti con l'Egitto era venuto nella capitale. Contemporaneamente sappiamo che il villaggio degli operai di Amarna, che era il villaggio nella grande capitale, separato dai grandi abitati, dalle grandi case e dai grandi funzionari, dove vivevano gli operai che lavoravano nelle tombe reali. Era un luogo abbastanza malsano, è uno degli scavi archeologici più interessanti degli ultimi anni in Egitto, sta portando un sacco di informazioni sulla vita quotidiana, diciamo che era il luogo ideale per parassiti e epidemie. Abbiamo un altro testo, scusate, testo ittita, che è la preghiera della peste, in realtà sono due, di Murshili II che è il successore di Shupilulium, in cui più tardi dice, abbiamo fatto un attacco dove sono stati presi degli egiziani e questi egiziani hanno portato la peste nel nostro campo, quindi c'è l'idea che in Egitto o almeno eserciti egiziani avessero questa pestilenza. E poi c'è una lettera molto interessante scritta dal re di Alasha che viene identificata come Cipro, però non è detto, l'importante è che sia un territorio produttore di rame e con accesso al mare diretto. In questa lettera di Amarna il re di Cipro scrive parla al re dell'Egitto mio fratello ecco il fatto che il re di Cipro chiami il re d'Egitto mio fratello vuol dire che sono praticamente sullo stesso livello. Abbiamo il re di Mitanni, il re di Babilonia, il re degli Assiri, il re degli Ittiti e questo che hanno questo grado di fratello mentre tutti gli altri sono servi. Le lettere si dividono in due strati i grandi re e i piccoli re. Questo re è un grande re perché chiama il farone fratello. Così dice il re di Alash a tuo fratello ora ho inviato 500 talenti di rame per te li ho mandati come dono per te per mio fratello non sia mio fratello preoccupato che la quantità di rame è troppo piccola perché nella mia terra la mano di Nergal mio signore che è il dio solare che è spesso connesso con la pestilenza il caldo che produce diciamo queste teorie miasmatiche pestilenze ha ucciso tutti gli uomini della mia terra e così non c'è un solo lavorante del rame non essere preoccupato mio fratello che il tuo messaggero sia rimasto tre anni nella mia terra perché la mano di Nergal ancora è sulla mia terra e sulla mia casa mia moglie ha partorito un figlio che ora è morto mio fratello quindi un'altra testimonianza che rapporti fra Egitto e un altro paese portano a una pestilenza e in effetti se noi guardiamo le documentazioni egiziane abbiamo una serie di morti prima abbiamo la principessa abbiamo visto le sei figlie nel baldacchino vicino a Kenaten la prima a morire è Machetaten è sepolta nella tomba reale di Amarna abbiamo una bella scena di compianto funebre poi però abbiamo un'altra persona che viene rappresentata in un'altra scena di compianto funebre deve essere una seconda una seconda persona in effetti abbiamo Nefer Neferura una delle principesse il cui nome viene improvvisamente intonacato coperto quindi vuol dire che è venuta a mancare in un'altra scena è sepolta nella stessa sala però effettivamente sembra in maniera affrettata perché la decorazione della camera è più di stampo solare quindi ha altri temi e in una parete piccolina hanno ricavato una scena di compianto funebre come a dire è morta un'altra bisogna metterla qui dobbiamo decorare la mettiamo lì sembra poi che c'è una terza ci sia no c'è effettivamente una terza scena di compianto funebre e coinvolge la regina madre la madre di Akenate nella vedova di Amenhotep III quindi nel giro di pochi anni intorno all'anno 13 ne muoiono tre vedete il faraone con la regina qui c'è il cadavere del defunto che è una cosa anche questa unica nell'arte egiziana c'è sempre la mummia nel suo sarcofago ma non si vede mai il cadavere sul letto funebre questa è una cosa che non si vede mai nell'arte egiziana e l'intera corte egiziana questo qua sopra è il visir con la tipica tunica cioè il primo ministro una scena parallela di là ancora qualcosa che manca però sempre un atteggiamento così di lutto e qui abbiamo anche una nutrice con un bambino molte persone hanno pensato che le due cose fossero connesse cioè la ragazza che è morta è morta dando alla luce questo bambino ma è una come dire un'inferenza un po' così gratuita non è detto in realtà qui abbiamo tutta la corte tutta la famiglia del re che piange i grandi funzionari le grandi principesse il primo ministro eccetera per contrastare questa serie di morti terribili pare che il farone abbia in mente un piano B prima di parlare del piano B devo fare alcune premesse Tutankaten per chiarire è il nome di Tutankano quello famoso prima a un certo punto del suo regno cambia il nome Tutankano cioè torna indietro agli dei tradizionali questo solo per chiarire in generale assistiamo a una certa reticenza nell'arte egiziana nei documenti egiziani a nominare l'erede al trono in generale abbiamo un sacco di principesse ma di figli maschi se ne vedono pochissimi e in effetti per tutto il nuovo regno ce ne sono solo due noti quindi bisogna sapere che va bene noi abbiamo queste sei principesse femmine però non è detto che siano le uniche figlie del farone in realtà magari aveva dei figli maschi di cui non sappiamo nulla abbiamo anche la certezza che Tutankaten fosse un membro della casa reale perché in un blocco di Ashmunain in uno dei rarissimi casi è menzionato come il principe Tutankaten vicino alla principessa Meritaten quindi in un contesto di famiglia reale e abbiamo buone possibilità di credere anche considerando la successione di sovrani che questi fosse effettivamente un figlio di Achenaten un figlio del re e di Nefertiti non ci sono motivi di credere che non sia così dovrebbe essere nato intorno all'anno 7-8 una cosa del genere questo è un dettaglio della scena che abbiamo visto prima la nutrice con il bambino e un nome integrato che è questo qui Tutankaten nella colonna questo per dire che in realtà poi non viene scelto Tutankaten viene scelto ah qui non è un pezzo viene scelto un'altra persona allora abbiamo questo vaso vaso Carter 405 dalla tomba di Tutankamon in cui vedete è un disastro le fonti amarniane sono quasi tutte così è stato a Braso si sono due coppie di cartigli quindi due nomi di sovrano nella coppia alla vostra sinistra si dovrebbe leggere il nome di Akhenaten nella coppia a destra il nome di un certo Semenkara Geserkeperu anche Perura dovete concentrarvi un pochettino sui nomi perché adesso comincia la parte pesante sono tutti così un po' questo vasetto sembrerebbe affiancare due nomi il nome di Akhenaten e un nome di un altro sovrano in un modo tale che da suggerire forse una correggenza o comunque un rapporto di vicinanza molto molto forte allora questo Semenkara compare anche sui mattoni di una struttura del palazzo reale che abbiamo visto prima quello col ponte di mezzo che viene chiamata convenzionalmente sala dell'incoronazione in realtà non è che sia detto in effetti sullo stampiglio dei mattoni c'è scritto Angeperurà nella casa della gioia dell'Aten che non vuol dire praticamente niente senza dubbio questa è l'ultima struttura eretta nel palazzo reale ed è stata eretta con una certa fretta con i mattoni però è una struttura enorme con tantissimi pilastri molte persone hanno pensato ecco questa è una sala dell'incoronazione il farone viene associato al trono e quindi per celebrare una nuova struttura viene edificata allora torniamo al nostro piano B Semencare che abbiamo appena nominato è senza dubbio un membro della famiglia reale così dimostra il corredo della tomba KV55 dove è menzionato in lacuna tante volte e anche le caratteristiche fisiche della mumia sempre che la mumia appartenga a lui sono parecchi punti di domanda le caratteristiche fisiche di questa mumia in effetti l'associano in maniera molto stretta a Tutankhamon di cui abbiamo la mumia siamo sicuri quindi sicuramente queste due persone sono parenti e parenti molto stretti allora possiamo chiederci forse questo Semencare è un figlio di Akenaten in realtà se la mumia di KV55 è la mumia di Semencare è una mumia di una persona di 20 anni è troppo giovane per essere un figlio di Akenaten tuttavia ha la precedenza su Tutankhamon è più anziano qui sembra una domanda stupida ma forse perché Tutankhamon è troppo giovane certo se è più vecchio è giusto che ha la precedenza allora in realtà l'idea questa domanda parte da qui perché riteniamo possibile che Semencare sia un fratello più giovane di Akenaten cioè un altro principe un altro figlio di Amenotep III l'idea del piano B è proprio questa siccome qui stanno morendo tutti e è una è una minaccia seria al nuovo ordine appena celebrato con l'anno la grande celebrazione delle nazioni dell'anno dodicesimo abbiamo bisogno di qualcuno che nel caso peggiore cioè il faraone stesso muoia sia in grado sia adulto abbastanza da prendere in mano la situazione sia in grado di eventualmente uno preparare la strada per il giovane Tutankhamen che è Tutankaten che è l'erede del trono legittimo in quanto figlio o nel caso in cui questi muoia prenda il potere e continui la politica perché l'idea di fondo è che non sappiamo quanto queste modifiche apportate da Akenaten nel sistema politico religioso artistico siano state poi condivise dalla corte dall'entourage dall'apparato burocratico dai grandi nobili del paese quindi probabilmente lui stesso sapeva che alla sua morte tutto sarebbe si sarebbe sgonfiato e tornato indietro questo Smencare compare insieme a Meritaten la figlia di Akenaten in un atteggiamento completamente regale vedete la corona sta premiando un funzionario è una scena tipica quindi è chiaramente un sovrano ora bisogna chiedersi se abbia regnato da solo anche dopo Akenaten o se in realtà fosse semplicemente il correggente che è la teoria principale il problema è che comunque di Semencare abbiamo pochissime testimonianze che non vanno oltre il secondo anno di regno di conseguenza anche se è stato reso correggente probabilmente è morto prima di Akenaten stesso una serie di morti incredibile e l'idea della peste qui diciamo che torna abbastanza bene perché è una situazione prolungata di decessi anche importanti a un certo punto nelle fonti ci sono resi conto che compare un nuovo personaggio che a volte è detto Ankheperura e a volte Ankhet col femminile Keperura Meri Nefer Keperura vuol dire amata amato da Nefer Keperura che è uno dei nomi di Akenaten e il secondo nome di questo sovrano è Nefer Neferuaten Meri Waendra cioè amato da Waendra che è un altro nome di Akenaten quindi c'è un nuovo sovrano possibilmente donna perché caratterizzato dal femminile in alcuni casi che è strettamente associato ad Akenaten e che non è Semenkare ma per moltissimo tempo in realtà la gente pensava che fossero una sola persona il nome di Semenkare è Semenkare Geser Keperu Ankheperura dicono magari si chiamava così poi a un certo punto ha cambiato da quel nome a questo nome o viceversa quindi si pensava fosse una persona unica nel 1988 James Allen ha scoperto che c'è stato il primo a dire attenzione forse in realtà siamo di fronte a due persone diverse perché questa cosa del femminile non compare soltanto nel nome compare in tanti oggetti la gente ha cominciato a sospettare che sta a vedere che in realtà è una donna e nel 98 Mark Gobold prova che effettivamente il sovrano Ankheperura è una donna perché ha un titolo specifico che è amata dal suo consorte o che è utile al suo consorte al suo marito quindi vuol dire che è una donna non c'è nessun dubbio è una scoperta come vedete abbastanza recente in realtà gli egittologi erano un po' ostinati perché quando vedete queste scene siamo di fronte senza dubbio a due sovrani perché entrambi hanno la corona soprattutto qui la corona dell'alto e del basso Egitto in mezzo è la corona detta blu cioè quella militare a sinistra entrambi hanno l'ureo cioè il cobra esattamente come qui però è estremamente evidente che nella coppia quella a sinistra è una donna come si vede anche dal seno e qui addirittura oltre al seno ha proprio un atteggiamento come di servizio allora siamo di fronte senza nessun dubbio a una donna re ed è quindi la nostra amica Ankheperura e gli egittologi erano talmente ostinati che per molti anni hanno preferito dire che Semenkare era una persona sola aveva ogni tanto questo femminile perché in realtà il rapporto fra Akenate e Semenkare era un rapporto omosessuale cioè piuttosto che ammettere la possibilità che una donna fosse sul trono avevano preferito andare sul personale su cose che poi alla fine non possono essere provate quindi diamo per scontato ora che abbiamo un Semenkara maschio Ankheperura e una Neferneferuaten Ankhet Keperura femmina chi sono questi? allora abbiamo diversi candidati la prima candidata è una certa Chia o Chie che è una delle spose secondarie di Akenate ha questo titolo sposa grandemente amata che guarda caso è un titolo che compare qui con lei e poi sparisce una cosa strana è una meteora nel senso che compare nelle fonti e poi a un certo punto cade in disgrazia molto presto come vedete in questo rilievo qui c'è un doppio cranio c'è una parrucca che finisce qui e poi qui c'è una testa invece che era evidentemente diversa il rilievo è stato adattato da una rappresentazione di Chia a una rappresentazione di una delle figlie di Akenate e anche il nome qui è stato pasticciato è stato cambiato vuol dire che e questo è avvenuto sistematicamente vuol dire che Chia a un certo punto è caduto in disgrazia chi sia non si sa una delle teorie più accettate è che si tratti di Taduhipa una delle principessie mitanni che erano state mandate ad Amenhotep III insomma ad Akenaten all'inizio del regno le altre due opzioni sono Meritaten e Nefertiti Pro Meritaten c'è il fatto che la principessa con il nome di Maiati sia citata in diverse lettere di Amarna quindi ha un rilievo politico internazionale abbastanza importante abbastanza inconsueto una è in una lettera di Burnavaria re di Babilonia e in un'altra lettera di Abimilchi di Tiro è assolutamente strano che una principessa della casa reale venga nominata in una lettera diplomatica senza motivo tipo ah i miei saluti a Maiati perché deve avere un ruolo a corte che va al di là anche solo di Grande Sposa Reale contro e l'unica cosa contro in realtà è un testo abbastanza complesso che è su una una scatola di legno trovata nella tomba di Tutankhamon in cui ci sono tre nomi reali nei cartigli uno è il re Akenaten il re Ankheperurah o Ankheperurah e la Grande Sposa Reale Meritaten allora se Meritaten è Ankheperurah come fa a essere nominata due volte? devono essere tre persone diverse Nefertiti pro e contro pro beh pro è che Nefertiti in realtà noi la chiamiamo come un soprannome il nome completo è Nefer Neferuaten Nefertiti bella è la bellezza o le bellezze la gioventù dell'Aten e la bella è arrivata che è come abbiamo visto uno dei nomi del re Ankheperurah 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 Meri Neferkeperura Nefer Neferuaten Meri Scusate i nomi sono un po' quindi dice è diventata da Grande Sposa Reale è diventata correggente sovrano e ha assunto praticamente il suo nome e l'ha modificato leggermente questo è una buona una buona idea contro in realtà abbiamo Unushabti una di quelle statuette che venivano sepolte con il defunto con delle formule magiche rituali per compiere i lavori nell'aldilà in cui porta il titolo di Grande Sposa Reale allora se lei è morta è stata sepolta con questo oggetto vuol dire che oltre il titolo di Grande Sposa Reale non è andata quindi non può essere diventata effettivamente Faraone re dell'Alto e del Basso Egitto finalmente dopo 35 minuti arriviamo alle gesta di Shupiluliuma una lettera in attesa la descrizione è molto interessante la lascio così com'è perché parla di più di quanto possa parlare io dice Murshili secondo re degli Titi mentre mio padre era nel paese di Carkemish mandò Lupakish e Teshubzalmash nel paese di Amca la valle della Beccà che abbiamo visto prima partirono attaccarono il paese di Amca e portarono indietro a mio padre prigionieri e bestiame grande e piccolo quando la gente d'Egitto seppe della distruzione di Amca ebbe paura tanto più che il loro signore Nib Huria era appena morto la vedova da Hamunzu mandò un ambasciatore a mio padre e essa gli scrisse in questi termini mio marito è morto e non ho figli la gente dice che tu hai molti figli se tu mi mandi uno dei tuoi figli egli sarà mio marito è ripugnante per me prendere uno dei miei sudditi letteralmente uno dei miei servi per marito scandalo la reazione di Shupiluliuma è abbastanza sorpresa quando mio padre udiciò convocò il consiglio dei grandi e disse dai tempi più antichi una cosa del genere non era mai successa decise di mandare Hattu Zittish il ciambellano quindi un altro personaggio dicendo va portami informazioni degne di fede potrebbero ingannarmi quanto alla possibilità che abbiano un principe portami informazioni degne di fede mentre Hattu Zittish era assente in Egitto mio padre conquistò Karchemish cioè continua la sua campagna militare contro Mitanni o qualche resta di Mitanni l'ambasciatore d'Egitto Hany venne a lui poiché mio padre aveva istruito Hattu Zittish quando era andato nel paese d'Egitto forse hanno un principe cercano di ingannarmi e non vogliono davvero uno dei miei figli come loro re Dachamunzu rispose cioè la regina egiziana risponde in una lettera con queste parole perché tu dici cercano di ingannarmi se avessi un figlio scriverei forse ad un paese straniero in un modo umiliante per me e per il mio paese tu non credi a me e lo dici anche colui che era mio marito è morto e io non ho figli punto forse devo prendere uno dei miei sudditi e farne il mio sposo non ho scritto a nessun altro paese ho scritto a te ho scritto solo a te fidati ma lei è proprio disperata dicono che hai molti figli dammi uno dei tuoi figli e sarà mio marito e signore della terra d'Egitto poiché mio padre era generoso mio padre era generoso acconsentì alla richiesta della donna e decise di mandare suo figlio abbiamo alcuni punti chiave da analizzare innanzitutto abbiamo un contesto scusate di guerra che parte da un attacco dei mitanni contro gli ettiti fallito e da un attacco egiziano a Kadesh città abbiamo visto ettita a sua volta fallito da cui la rappresaglia di Shupiluliuma contro Amca due dai tempi più antichi una cosa del genere non era mai successa e in effetti è vero nessuna principessa egiziana era mai stata mandata in sposa a nessuno dei grandi re c'è una lettera di Amarna di Amenhotep III in cui dice scordatevelo una principessa d'Egitto non è mai stata e non sarà mai una sposa di un re vostro non solo ma qui non solo si manda non si manda una principessa egiziana in un altro paese ma si richiede che un principe maschio venga in Egitto e diventi faraone è una cosa ben diversa la terza domanda è chi è Nibukuruya che è ovviamente una rendizione accadica di un nome egiziano e chi è Dacamunzu che è anche un nome accadico per una principessa una regina la vedova bisogna ricordare questa parte importante la regina dice io non ho figli non ci sono eredi non c'è possibilità se con me o con mio marito si è estinta la dinastia quindi il prossimo re sarà un uomo del popolo un uomo comune bisogna anche notare attenzione questo sempre nelle fonti il tono retorico delle geste di Schupiluliuma che dice la regina proprio va e dice che umiliazione gli titi un po' godono in questa situazione Mursili ci gioca un po' sopra mio padre era generoso e gli ha dato un principe magari va un po' limato per vedere com'era la realtà delle cose la lettera è in effetti citata in un secondo documento sempre di Mursili II detta la seconda preghiera della peste in cui dice proprio un bel riassunto Schupiluliuma attaccò Amca territorio egiziano quando gli egiziani ebbero molta paura chiesero direttamente uno dei suoi figli perché diventasse re ma quando Schupiluliuma diede loro uno dei suoi figli essi lo uccisero mentre lo portavano là quindi in effetti pare che lui sia riuscito a convincere cioè sia stato convinto a mandare il principe il principe in questione si chiama Zannanza e poi il principe però viene ucciso torniamo a uno dei punti chi è Nib Kuruia allora abbiamo due opzioni in realtà Nib Kuruia Kuriia potrebbe essere il nome di incoronazione di Achenaten cioè Nefer Keperura però abbiamo contro alcune cose in effetti di Achenaten aveva degli eredi c'era Tutankamen forse c'era ancora Semencare vivo non si sa e c'era la regina la donna re Anhet Keperura regnante il nome in effetti Nefer Keperura non torna molto bene con Nib Kuruia poi lo vediamo meglio e anche la situazione politica noi non abbiamo nessuna notizia di azioni militari egiziane nel vicino oriente alla fine del regno di Achenaten mentre le abbiamo per Tutankamen Tutankamen di contro si chiama Neb Keperura molto vicino a Nib Kuruia però contro abbiamo che la data della lettera cioè gli titi dicono abbiamo ricevuto questa lettera dalla Dachamunzu verso la fine dell'estate inizio autunno e Tutankamen è stato seppellito grazie agli esami fatti sui semi dei fiori su queste cose nel corredo funebre verso marzo quindi vuol dire che sono passati sei mesi dalla morte presunta cioè dalla lettera della vedova alla effettiva sepoltura di Tutankamen che è molto tempo è il doppio di più del tempo tipico di una sepoltura egiziana questa è una cosa abbastanza sospetta andiamo ancora bene sul tema Kuruia allora abbiamo altri nomi di faraoni egiziani resi in accadico nelle lettere abbiamo ad esempio Menheperra che è Tutmosi IV viene reso con Manachpia Nebmatra è Nibmuaria Nefercheperurà in altri casi forse è Nabkuria e quindi Nebcheperurà dovrebbe essere Nibkuria tra l'altro Nebmatra Nib Nebcheperurà Nib questa parte Nib è proprio è proprio quella della lettera della Dachamunzu è morto il re e il re si chiama Nibkuria quindi il nome ci spinge verso Tutankamon e chi è la Dachamunzu se diciamo che Nibkuria è Akenaten allora la vedova di Akenaten è o Nefertiti la grande sposa reale o Meritaten che a un certo punto assume anche il titolo di grande sposa reale cioè la figlia del re diventa la regina cioè la moglie del re la cosa non deve essere effettiva sul piano carnale è un titolo diciamo che lui vuole sostituire una grande sposa reale prende la figlia ma non è che poi hanno generato figli non era la cosa importante quindi in questo caso Dachamunzu sarebbe in realtà la rendizione di un titolo cioè Ta-Hemet-Nesu la sposa del re non è un nome proprio se diciamo che Nibkuria è identificato con Tutankhamen immagino abbiate capito io tendo verso questa opzione la vedova è An-Hesenamun An-Hesenamun e quindi Dachamunzu potrebbe anche essere oltre all'opzione Ta-Hemet-Nesu che va bene anche per questa addirittura la rendizione di An-Hesenamun che casino allora l'ipotesi una per spiegare tutto questo puzzle di fonti così buttate in giro è quella di Mark Gabold allora nell'anno 17 Akenaten promuove Meritaten a grande sposa reale e contemporaneamente o subito dopo a correggente cioè il re donna An-Het-Heperurah è Meritaten poco dopo con grande tempismo Akenaten muore in effetti non abbiamo nessuna iscrizione di Akenaten dopo l'anno 17 e questo è come noi datiamo gli eventi allora è lei Meritaten che scrive Asciuppi Luliuma però secondo Gabold non scrive come vedova disperata come farebbe credere la fonte ittita ma in realtà con un grande mossa una grande mossa politica diceva non abbiamo l'esercito abbiamo fatto un gran casino abbiamo perso Akadesh se gli ittiti vengono siamo spacciati allora facciamogli una proposta che non possono rifiutare lo chiamiamo uno dei figli del re ittita e lo facciamo faraone così abbiamo la pace e abbiamo sistemato tutto sarebbe una cosa molto ardita in effetti il re ittita è molto sospettoso su questa proposta dice ma cos'è sta storia ho mai sentito io secondo Gabold Zannanza in effetti viene in Egitto e assume il trono ed è Zannanza altri non è che il nostro amico Semenkara che va e viene in effetti il nome di Semenkara Ankeperurah Semenkara Geserkeperu è un nome abbastanza strano perché vedete abbiamo questo Geserkeperu che si ripete nei due nomi in realtà di solito i due nomi sono diversi ad esempio Neferkeperurah Farawaendra Amenhotep cioè i due nomi del re sono abbastanza separati qui invece abbiamo due nomi molto simili fa supporre che sia tipo un nome artificiale nello stesso tempo Geserkeperu è il nome di un faraone o Semenkara scusate non mi ricordo credo Semenkara proprio è il nome di un re della tredicesima dinastia quindi tipo preso negli annali via che nome prendiamo bello questo tanto non lo conosce nessuno mettiamo qui e poi anche Perurah sarebbe la rendizione maschile del femminile Anhetkeperurah cioè gli danno uno sposo gli danno un nome proprio pasticciato è una teoria molto bella a me piace molto però in realtà non torna con tutto il resto perché la cronologia eccetera è però affascinante nell'anno terzo che è la data più alta di Anhetkeperurah lei muore e abbiamo la successione tranquilla lì del nostro amico Tutankaten che poi diventa Tutankhamun bene se questa è la teoria come mai abbiamo il vaso in cui i due re sono insieme beh Gaboldi dice ma non è mica detto perché i due nomi sono insieme che i due re fossero per forza correggenti poi ha una spiegazione che per me è un po' artificiosa dice ma sì in effetti nel corredo di Tutankhamun questo è l'unico oggetto in cui il nome di Achenaten è stato cancellato come mai beh chiaramente perché chi ha visto l'oggetto ha detto ma no non è mai successo che Achenaten è stato correggente di Semenkara questo è un grande errore è un grande pasticcio storico dobbiamo cancellarlo è un po' artificiosa come spiegazione insomma va molto dentro le menti delle persone c'è un altro problema la scatola Carter quella in cui c'è il nome del re Achenaten il nome del re donna Anche Perurà è il nome della grande sposa reale Meritaten se le due persone sono la stessa come fanno? lui dice che in effetti sì sono le due persone sono le due persone e hanno lo stesso titolo cioè la regina la grande sposa reale Meritaten tiene il titolo di grande sposa reale e contemporaneamente diventa sovrano correggente col nome di Anche Perurà anche questa è una spiegazione un po' così però non è brutta l'ipotesi 2 sto sforando ma ho quasi finito è l'ipotesi di Nicholas Reeves più alcune proposte di Aiden Dodson praticamente nell'anno 13 Achenaten promuove il fratello Semenkara in seguito alla pestilenza alla morte di gente come piano B gli dà in sposa la figlia Meritaten nell'anno 15 Semenkara muore perché sappiamo che comunque ha regnato pochissimo Nefertiti viene promossa al rango di correggente e quindi L'Anche Perurà Nefer Neferuaten è secondo lui Nefertiti nell'anno 17 Achenaten muore continua la correggenza attraverso Nefertiti che è diventata Anche Perurà con il figlio Tutankaten nell'anno 13 come abbiamo visto è la data più alta di Anche Perurà lei muore e finalmente Tutankaten regna da solo soltanto alla morte di Tutankaten cioè che è diventato nel frattempo Tutankamen nell'anno 10 Anche Senamen scrive a Schuppi L'Uliuma ma Zannanza che viene finalmente inviato muore e Ai diventa re Ora non dobbiamo entrare nel merito di chi sia Anche Perurà ci possiamo anche passare sopra ci interessa sapere altri ultimi due documenti che è la prosecuzione della corrispondenza abbiamo una lettera molto interessante di Schuppi L'Uliuma al nuovo re egiziano ero pronto a mandare mio figlio per essere re ma tu eri già sul trono e io non lo sapevo quanto ciò che mi hai scritto tuo figlio è morto ma io non gli ho causato alcun male quando la regina d'Egitto mi scrisse di nuovo tu non tu non eri re quindi che devo dire ma se fossi salito al trono nel frattempo sembra dire come tu sostieni allora avresti dovuto mandare mio figlio indietro alla sua casa cioè io ti ho mandato Zannanza pensando che non ci fosse alcun re se tu eri veramente già diventato re bastava che mandavi indietro mio figlio perché è morto il tuo servo Hani che era l'ambasciatore ci ritiene responsabili ma qui c'è una lacuna ovviamente sul più bello la frase si rompe cosa avete fatto a mio figlio quanto al fatto che sangue non è stato versato fra noi prima beh il sangue versato da allora fra noi non è giusto quindi mi sembra un tono un po' accusatorio un po' riconciliatore diciamo che dopo questo affare Zannanza le cose cercano di essere riappacificate riannodate interviene un altro documento che è una lettera di Amarna EA 41 in cui Sciuppi Luliuma scrive a un re un re che viene chiamato Curia e chi è Curia? abbiamo visto che è questo che perurà che può essere la parte di molti re quindi chi è? sempre le cose a frammenti dice perché mio fratello hai frenato i doni che tuo padre era solito farmi quando era vivo ora tu mio fratello sei asceso al trono di tuo padre e come tuo padre ed io eravamo desiderosi di essere in pace fra noi così ora tu e io dovremmo essere amichevoli l'un con l'altro è un tono estremamente conciliatorio nonostante faccia un po' di insomma si lagni un po' per essere una lettera scritta dopo la morte l'omicidio di Zannanza per cui gli ittiti hanno chiaramente questa politica io ho mandato Zannanza Zannanza è morto l'avete ucciso voi com'è? questa lettera è troppo positiva per essere in questo contesto e in effetti abbiamo questo Curia che è il suffisso che perurà che si adatta a tre re nefer che perurà cioè a Kenaten anche perurà cioè la regina donna o sementare e neber che perurà cioè Tutankamon in realtà c'è un'integrazione che io trovo abbastanza geniale Ana in accadico vuol dire A cioè il mittente Ana e si propone che lo scriva abbia cancellato un secondo Ana perché una plografia l'ha trovato come un errore quindi Ana Curia in realtà andrebbe letto Ana Ana Curia A Anche perurà quindi questo si trova molto bene a essere una lettera inviata appena dopo la morte di Achenaten al successore Anhet che perurà che poi regna per tre anni che poi muore che viene successo da succeduto da Tutankamon e poi abbiamo l'affare Zannanza quindi la mia idea preferita è ok è molto buona l'idea che Semenkara è il fratello giovane di Achenaten è uno che viene fuori dal nulla però è abbastanza maturo adulto per essere in controllo Disgrazia vuole che muore Anche perurà la nuova regina a me piace l'idea che sia Meritaten proprio perché ha questa prevalenza nelle fonti nelle lettere in cui lei ha il re di Babilonia scrive saluti anche a Mayaten che è la primogenita di Achenaten e che quindi sarebbe l'Ana Curia di questa lettera e poi solo dopo abbiamo Nib Curia cioè Tutankhamen e la vedova da Camunzo questa cosa torna molto bene perché se ricordate la vedova scrive non ho figli e il re Ittita manda un ambasciatore e richiama l'ambasciatore egiziano per avere conferma ma è vero che in Egitto non c'è un erede al trono e sia l'ambasciatore egiziano che il ciambellano Ittita tornano con l'idea che sì guarda che non c'è proprio nessuno fidati manda Zannanza il che non è il caso alla morte di Achenaten c'è un disperato bisogno in effetti di legittimazione da parte del re che succede a Tutankhamen quindi diciamo se sosteniamo che Dacamunzo è la vedova di Tutankhamen e lei cerca un marito straniero per non sposare un servo dice un suddito in effetti il re che viene dopo quello a cui Sciupiluliuma scrive ma perché non mi hai detto che eri diventato re avremmo fatto molto prima è Ai re Ai che beh non si sa bene chi sia ovviamente sarebbe troppo bello probabilmente è il padre di Nefertiti in effetti quando si rivolge a Tutankhamen lo chiama figlio forse gran figlio cioè nipote quindi in qualche modo c'è un legame sicuramente è un membro della famiglia reale un membro anziano regna infatti solo 4 anni gira intorno quindi alla corte non è proprio un suddito come l'ha messo la vedova e in effetti abbiamo questo anello in cui il nome di Anchesenamon cioè la vedova di Tutankhamen è associato al nome di re Ai quindi probabilmente o sono sposi o insieme hanno curato la sepoltura di Tutankhamen quindi è una responsabilità molto forte che vuol dire diventa re e in effetti questa scena che è la scena dell'apertura della bocca è una scena rituale in cui il defunto in forma di mummia riceve le facoltà di respirare mangiare vedere sentire i rumori gli odori viene effettuata direttamente dal suo successore cioè Tutankhamen morto e Ai vivo nella vesti di sacerdote che anche questo è un unicum non abbiamo mai un sovrano che fa questa cerimonia al suo predecessore c'è effettivamente un disperato bisogno da parte di questo Ai di far vedere che lui è la persona legittima che lui è il re e in effetti ha già la corona quindi è molto chiara questa cosa ha il suo nome scritto nel cartiglio e fa questo rituale in effetti è una delle forme di legittimazione prevista nell'antico Egitto cioè il re che seppellisce il predecessore è il re legittimo è uno dei modi per essere effettivamente al trono legittimamente oltre al matrimonio che abbiamo qui grazie 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 compiuti dall'altra parte come saprai ce ne sono tantissimi ma intanto devo dire la storiella del principe che viene mandato in sposa in sposo a una regina egiziana a me personalmente ha sempre lasciato scettica gli titi avevano una grande fantasia e mi sono sempre chiesta se questa è una storia vera o una uno spunto per creare un caso sbelli visto che poi sappiamo che su Pilulium effettivamente trova la scusa per attaccare l'Egitto quindi appunto anche la narrazione nel testo è molto particolare stride proprio anche col fatto che gli egiziani non concedevano mai le loro principesse eccetera eccetera ora a parte questo però molti molti studiosi si sono cimentati con la questione anche perché tutto ha a che fare con la cronologia e la successione al trono dei sovrani ammettiti e quello che ti volevo chiedere è se tu conosci e come consideri per esempio la teoria che è stata espressa ultimamente da Jared Miller che ha ripreso gli annali di Morsili II e c'è un personaggio in questi annali Arma che lui interpreta come Oremeb Oremeb che poi diventerà faraone in quel momento non è ancora faraone ma è il governatore egiziano in Siria e quindi da tutto questo andando indietro deriva che al tempo di Morsili II è il re Tutankhamun nei primissimi anni al tempo di Arnuvanda che è quel figlio di Suppiluliuma che muore di peste e che regna pochissimo è forse re Semencare per cui si arriva a Suppiluliuma il cui regno è occupato completamente dal regno contemporaneo di Amenofi IV per cui la regina la Dachamunzu che richiede un figlio come sposo potrebbe essere la sposa di Amenofi IV piuttosto che io trovo la teoria convincente perché sono assolutamente ignorante di storia e di documenti egiziani ovviamente e mi piace l'idea appunto che Arma possa essere però appunto sono interessata a sapere cosa invece ne pensa un egittologo di questa idea sì l'avevo letta è una questione che si aggiunge alle tessere che sono state gettate in aree che stiamo cercando di mettere insieme è sicuramente affascinante queste teorie di Oreme Arma come governatore in effetti nella tomba di Tutankhamon non nella tomba ma nella tomba di Oreme che è stata lui ha due tombe ovviamente se hanno poi diventato rena costruita una di tutt'altro tipo però la prima tomba come grande commissario del re nei paesi asiatici grande generale generalissimo ci sono molte scene in cui i prigionieri i titi vengono portati effettivamente lui con gli titi ha avuto un grande problema militare sì nel senso che a me piace di più l'idea che effettivamente è la vedova di Tutankhamon perché effettivamente siamo alla fine della dinastia e chi diventa re dopo è proprio l'ultimo membro della famiglia reale il nonno praticamente l'ultima persona che è rimasta l'ultima spiaggia e dopo di lui abbiamo Re Meb perché è proprio finita non c'è proprio più nessuno a questo punto sono tanti non lo so sinceramente io non volevo arrivare a una conclusione proprio definitiva perché effettivamente avete visto anche tante delle teorie si basano su su assunzioni tipo chi è sepolto nella KV55 siamo sicuri che semencara siano infertiti o meritatem o magari qualcun altro anche la teoria che Zannanza sia effettivamente semencara interessante fa un po' pugni come dire abbiamo tanti documenti che dicono il contrario molti vanno in una direzione e molti vanno in una direzione opposta e si fa ancora fatica a conciliare io sinceramente non lo so grazie grazie per la domanda non vi ricordate più i nomi chi è anche per Ura chi è anche per Ura anche il problema che effettivamente Tutankham è stato sepolto sei mesi dopo la lettera che è una cosa molto strana farebbe pensare che Tutankham dovrebbe essere morto dopo la lettera della Dachamunzo oppure bisognerebbe postulare effettivamente sei mesi in cui le cose sono rimaste sospese o per permettere agli itigi di mandare qualcuno o per evitare che Ai diventi effettivamente il sovrano però questa cosa qui che la regina fa le cose da sola perché non lo so non sono tanto convinto anche che che ci sia effettivamente un conflitto di corte cioè sono una cosa comunque Tutankham è morto sui vent'anni e la moglie aveva più o meno la stessa età forse qualche anno in più ovviamente avevano una pressione di questi membri anziani della corte che gestivano la politica in qualche modo poi comunque era una donna va bene che la società egiziana era aperta però quanta possibilità aveva lei di mandare un inviato fermare tutto sicuramente era una cosa condivisa questa cosa degli itigi probabilmente fu condivisa poi magari c'era una fazione che lo fece morire Zannanzo questo è anche parte della testimonianza di Tita sono gli itigi che dicono è morto l'avete ammazzato voi gli itigi dicono non ci diamo niente lui quando è arrivato gli erogiar magari è morto di peste questo è la peste risolve tante cose sono morti tutti di peste quindi ci va bene ci aiuta molto ci sono tanti domande sono anche più poche di due cittadini perché sono un privato dopo abbiamo un po' di un po' ancora non vuol poter farvi perché sono qui sul sul libro di Asma non sono se visto che ci sono vicini come io sono e ambiente ovviamente l'ha contato se mi sentite sì no beh io al di là del fatto che è un bellissimo libro ovviamente il libro di Asma su Mosè è sicuramente è giustissima la posizione che lui ha sul rifiutare per la cultura egiziana antica la cosiddetta distinzione mosaica da cui parte diciamo tutto l'assunto cioè è evidente che lui ha ragione quando mette in rilievo questo fatto che appunto non non è possibile interpretare la religione dell'antico Egitto fino ad Akhenaton ma anche anche durante e dopo Akhenaton cioè lui smussa molto l'idea che poi la religione di Akhenaton a meno fi quarto sia comunque una religione da assimilarsi in tutti i sensi ad una religione monoteistica però devo dire che questo è uno di quegli argomenti su cui Asma è forse meno limpido rispetto alla sua disciplina consuetudinale insomma rispetto a quello che ha scritto prima e anche dopo il problema della della posizione del monoteismo di Akhenaton eccetera è quello su cui in qualche maniera lui è forse un pochettino più debole infatti ha ricevuto diciamo molte critiche ci sono aspetti secondo me bellissimi del suo libro per esempio anche per quanto possa essere discutibile ma è bello che lui faccia vedere come dopo Amenofi terzo in parte dopo Amenofi quarto si crea una sorta di panteismo tra virgolette nella religione egiziana ci sono molti spunti interessantissimi di quello che dice però non tutto poi va nella direzione giusta ora non so se era questo quello che ti interessava se Daniele fa qualcosa sì io ho una cosa diversa a me del libro di Asman è piaciuta l'idea che fa del concetto di minimo storia come Giuseppe Flavio parla di questi lebrosi del re che ha fatto dei casini che è stato adesso non mi ricordo più 30 anni si è isolato dal resto e il concetto che Asman dice è che in realtà questo è quello che nei secoli nei secoli è percolato fino ai tempi di Giuseppe Flavio per cui c'era questa memoria di un fatto storico che ormai non era più chiaro che cosa fosse ma che era comunque riferito a un re Amenhotep da quello che dice la fonte e che aveva creato un grande shock poi in effetti Asman fa tutto il discorso di come la teologia egiziana cambia dopo Amarna come nella scena del giudizio compare il mostro divoratore cioè una cosa morale molto più forte come nelle tombe private c'è più vicinanza fra gli dèi e gli uomini gli dèi non comparivano mai nelle tombe private se non una selezione molto rara e ora abbiamo il defunto che abbraccia gli dèi un grande amore mi siete mancati dopo che a Kenate hanno fatto questa cosa terribile probabilmente lui la vede così questa cosa che è stato uno shock culturale per gli egiziani così forte da essere rimasto nella memoria storica nella memostoria della loro civiltà che a un certo punto qualcuno ha fatto qualcosa di così grosso che gli dèi erano così arrabbiati che ha modificato la loro percezione del divino in qualche modo questo era il mio grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti